Canottieri Belluno inarrestabile. Una vera e propria sorpresa alla formazione bianco-blu del capoluogo, sempre più capolista, del girone B di Serie B di Fuzzal, assieme a Carrecchi Uppano e Sporting Altamarca. I bellunesi nell'ultimo turno hanno avuto la meglio dell'Olimpia Rovereto, squadra ostica, e che pure si era portata avanti grazie al gol di Salvador. Ci hanno pensato lo spagnolo Juan Moreno ed Alfarra a ribaltare il punteggio prima dell'intervallo. Nella ripresa l'allungo firmato capitano Reolon e Dorsi, sino alla ferrea difesa finale del punteggio, nominato dal definitivo 4-2 ospite di Frisenna. L'allenatore Alessio Bortolini è giustamente soddisfatto del cammino fino a questo momento immacolato della sua squadra. Io ho detto ai ragazzi che noi adesso ci sentiamo come degli imbucati, è una bellissima festa. Finché riusciremo staremo lì e ci divertiremo. Quando qualcuno ci verrà a prendere e portar fuori per le orecchie saremo sereni lo stesso. Io non credo che nel lungo periodo siamo in grado di poter puntare a un traguardo così importante. Forse non sarebbe nemmeno la stagione giusta, però cercheremo di arrivare più in là possibile. Sabato ci sarebbe il derby contro la Gioric Sedico in programma, ma i sedicensi, dopo aver rinviato la trasferta a Pordenone causa Covid, dovranno probabilmente dare ancora forfè. Se ne parlerà quindi nel nuovo anno, dove la Canottieri si augura di togliersi altrettante soddisfazioni.